Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Dopo i problemi legati alla pandemia tornano a chiedere servizi efficienti i pazienti diabetici, denunciando come la apposita commissione non effettui riunioni da più di un anno. Il servizio di Stefano Recanati. Consigliere Blasioli, ancora problemi per questi pazienti che soffrono di diabete e non si riesce a trovare una via di uscita soprattutto negli ospedali. Purtroppo martedì in Consiglio regionale abbiamo presentato la nostra interpellanza, mia del capogruppo Paolucci, cui la Veri sostanzialmente risponde che la situazione è ferma a luglio dell'anno scorso, quando c'è stata l'ultima riunione del coordinamento delle associazioni. Oggi il coordinamento delle associazioni dei diabetici è qui con noi in conferenza stampa per dire appunto che da luglio dell'anno scorso nulla si è mosso, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei presidi per i diabetici. Sembrava tutto risolto a luglio dell'anno scorso e invece la situazione è ancora in altissimo male. Non si è capito se si farà con le farmacie, non si è capito se si farà con un'altra modalità. Fatto sta che tutte quante le persone devono spostarsi verso l'ospedale della provincia, del capoluogo di provincia per ricevere questi presidi. Quindi succede che per esempio da abateggio bisogna spostarsi a pescare e succede che in un periodo di pandemia come questo la stessa distribuzione avviene proprio nel Covid Hospital, in quel palazzo e quindi moltissime persone durante questa pandemia sono rimaste fuori in fila con il rischio di fare un viaggio e di non poter ricevere questi presidi. Situazione che oggi almeno questa si è risolta con l'allentamento del virus, ma veramente siamo l'unica regione d'Italia insieme alla Lombardia che non effettua la distribuzione dei presidi nelle residenze, quindi nelle farmacie oppure nei comuni dove risiedono i diabetici. Loro chiedono appunto di essere sentiti, comeppure chiedono la distribuzione del Freestyle 2, un nuovo meccanismo diciamo con un allarme sonoro che nel frattempo è arrivato, è arrivato il 21 di aprile con la conclusione, con l'aggiudicazione di un appalto che viene distribuito per esempio a Termo e all'Aquila, ma non viene distribuito ancora a Pescara e Chiedi. E anche di questo dobbiamo registrare che l'assessore Verini nel rispondere alla nostra interpellanza non sapeva neanche che l'appalto era stato concluso. Ha tante difficoltà anche il fatto che comunque in tanti presidi minori i reparti di diabetologia vengono anche chiusi. Per esempio ad Ortona dove diciamo con le difficoltà regate a geriatria che si è trasferita a Chiedi è stato trasferito anche l'unico medico che si occupa appunto dei pazienti diabetici e oggi se si chiama per esempio Ortona vi si viene diciamo invitati a richiamare tra qualche mese per fissare una visita a discapito appunto invece della continuità assistenziale. Parte lunedì in Abruzzo la campagna vaccinale di prossimità riservata ai piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne della regione. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verini specificando come in questa prima fase l'iniziativa riguarderà alcuni centri delle province di Chieti e L'Aquila dove sono presenti la maggior parte di questa tipologia di comuni con popolazioni inferiori ai 500 abitanti. Le vaccinazioni, sottolinea l'assessore, saranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla struttura commissariale del generale Figliuolo che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa. I team si recheranno nei centri in una giornata prestabilita e sottoporranno a vaccinazione l'intera popolazione residente che avrà manifestato il proprio interesse alla somministrazione. La vaccinazione di prossimità continua a laveri oltre a limitare i disagi e lunghi spostamenti per i residenti nei centri più remoti consentirà di creare piccole zone covid free che assicureranno non solo la ripresa di una normale vita sociale in queste comunità ma potranno anche renderle destinazioni turistiche appetibili proprio per le garanzie di sicurezza sanitaria che tanti villeggianti oggi ricercano. E nessun comune abruzzese in zona rossa ora anche quello di Celano è fuori dalle restrizioni nella cabina di regia tenuta ieri all'Aquila il Presidente della Regione Marsilio ha parlato ancora dei dati nel miglioramento per l'Abruzzo della possibilità di vaccinare chi è in vacanza e di alcune problematiche relative all'approvvigionamento dei vaccini ascoltiamolo. Questa settimana registriamo 36 di incidenza la settimana scorsa era 57 quindi siamo scesi decisamente sotto quella soglia di 50 che ci permetterà quanto prima di arrivare in zona bianca sempre che l'incidenza non torni a crescere quantomeno si stabilizzi intorno a questi valori così bassi sta scendendo anche l'incidenza ospedaliera quindi abbiamo tutti i parametri assolutamente positivi per questo motivo è giusto non dire quel po' di ottimismo che ci può portare verso una stagione di apertura sui turisti abbiamo un avviso contrario da parte del Commissario che però ha lasciato alle regioni la facoltà di decidere autonomamente noi stiamo ricercando tra tutte le regioni un accordo da questo punto di vista per rendere possibile questi scambi in modo che i vaccini che si fanno fuori sede possano essere in qualche maniera conteggiati e poi compensati reciprocamente ci lavoreremo io penso che sia un obiettivo che dobbiamo raggiungere perché dobbiamo portare ai cittadini maggiori possibilità di potersi vaccinare e non creare ostacoli rispetto al turismo o ad altre esigenze che hanno devo dire che in questi giorni i target che ci sono stati assegnati sono un po' inferiori ai numeri che venivano promessi o sperati qualche settimana fa c'è qualche difficoltà di approvvigionamento e di distribuzione l'abbiamo avuto in particolare con le consegne di Moderna provocando in qualche caso anche dei rinvii di seconde dosi, di richiami quindi noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte e penso che stiamo dimostrando di saperla fare più vaccinicità non più ne somministriamo c'è qualche piccolo rallentamento in questi giorni speriamo che nei prossimi giorni il flusso di consegne torni ad essere più regolare soprattutto con quantitativi più massicci Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari a fianco dei familiari dei pazienti deceduti nell'ospedale di Pescara a cui sono stati sottratti gli effetti personali il servizio, vediamo Oggetti personali di altissimo valore sentimentale andati persi dopo il decesso di alcuni pazienti presso l'ospedale di Pescara a denunciare il fatto sono gli stessi familiari che oltre al dolore per la perdita dei propri cari hanno subito la beffa di non poter portare a casa un ricordo del proprio caro a unirsi a questo grido di rabbia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari Questi sono i familiari di coloro che sono morti purtroppo all'interno dell'ospedale di Pescara e che poi sono ritrovati senza nulla spogliati di tutto a chi è mancata una fede nunziale a chi una catenina a chi una collana d'oro a chi orecchini, cellulari e soldi e quant'altro quindi questi familiari ecco al dolore un ennesimo dolore loro chiedono giustizia dicono ma non è possibile anche il valore affettivo questo ha una grande implicazione emotiva a questa situazione e allora noi che chiediamo? Un appello forte al Presidente di Regione all'assessore regionale alla Sanità Veri di attivare immediatamente un'indagine conoscitiva interna per vedere che cosa è accaduto che cosa è successo perché ci sono dei protocolli che vanno seguiti che cosa è accaduto dentro l'ospedale di Pescara? Uno, due non si può delegare solo la magistratura loro hanno denunciato tutte la magistratura ma la magistratura farà il proprio corso la terza cosa io chiedo all'assessore di ricevere questi cittadini li porterò io ma li deve ricevere perché questi cittadini sono stati abbandonati da tutti loro ci dicevano che non trovavano gli effetti personali di mia moglie e purtroppo hanno mandato anche un invito ad andare giù a visionare tra gli effetti personali di altre persone però non abbiamo trovato nulla quindi mi sono recato alla caserma dei carabinieri sporgendo denuncia loro hanno fatto le loro indagini e la denuncia è venuta archiviata noi chiediamo più sicurezza negli ospedali cioè che queste cose non accadano più perché oggi magari capita a noi domani capita a nostro parente dopo domani a uno sconosciuto che noi non conosciamo però sono sempre cose che non vanno fatte chiediamo anche magari più sorveglianza all'interno anche perché il periodo di covid gli ospedali erano blindati non è che potevano entrare persone parenti eccetera quindi il questore di Chieti Annino Gargano ha emesso sei misure di prevenzione in seguito alla sparatoria che ha visto protagonista a Lanciano lo scorso 19 aprile una banda di albanesi vicenda che ha portato all'arresto di quattro albanesi per il ferimento di altri loro connazionali uno dei quali raggiunto da colpi d'arma da fuoco gli specifici accertamenti avviati dalla divisione polizianti crimine della questore di Chieti si sono conclusi con l'emissione da parte del questore dell'avviso orale nei confronti delle quattro persone arrestate e per due di loro non residenti a Lanciano è stato emesso il foglio di via obbligatorio con cui si dispone che per tre anni non potranno recarsi nella città Frentana la prossima può essere una settimana importante per la salvaguardia dei cosiddetti tribunali minori in Abruzzo c'è il rischio di chiusura per quelli di Avezzano sul Mona Vasto e Lanciano i sindaci sono pronti a far sentire la orovoce a Roma e quello di Avezzano di Pangrazio lancia un ulteriore appello i sindaci abruzzesi si dicono pronti a marciare sul Roma entra nel vivo dunque la partita per scongiurare la chiusura dei tribunali di Avezzano Lanciano sul Mona e Vasto fissata per il 14 settembre 2022 in attesa di conoscere l'esito dei tre emendamenti per la proroga della chiusura presentati dagli onorevoli Carmela Grippa e Valentina Corneli del Movimento 5 Stelle Stefania Pezzopane del PD e Luigi Deramo della Lega il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio lancia un nuovo appello a tutti i senatori abruzzesi affinché supportino la causa non sono minori noi Avezzano abbiamo un tribunale che è il terzo in Abruzzo ha come carico di lavoro un carico superiore persino a quello dell'Aquila abbiamo dimostrato con i dati alla mano che la chiusura del tribunale di Avezzano e di Sulmone così come Lanciano e Vasto veramente farebbe sì che queste città e territorio scomparisse quindi noi non possiamo permettere la scomparsa dell'economia delle città Avezzano Sulmona Lanciano e Vasto perché è importante perché questo fermerà l'azione da parte sia della dirigenza dei tribunali sia dei magistrati responsabili per rivedere poi tutta l'organizzazione delle cause e quindi del lavoro della giustizia nei nostri territori il sindaco dunque promette battaglia se queste iniziative un domani dovessero rivelarsi vane si parte con la mobilitazione si parte con la presenza si parte proprio per salvaguardare gli interessi economici e di vita di tutti questi territori sono quattro distretti che non possono essere perduti sono quattro tribunali che danno vita danno lavoro danno economia ai territori il primo cittadino infine torna a sottolineare l'importanza del voto consapevole soprattutto in occasione delle politiche per Di Pangrazio infatti un politico che conosce il territorio fa il bene della comunità che lì vive bisogna votare bisogna andare chiaramente a qualsiasi partito qualsiasi colorazione politica ma ricordate chi è del territorio poi torna e difende il territorio chi non è del territorio appena preso il bottino fugge e non ritorna se non quando ci saranno di nuovo le elezioni tornano a protestare ambientalisti e comitati cittadini contro il taglio di 58 piante secolari in via Pantini a Pescara per la realizzazione di una strada che colleghi tutti i comparti della riserva naturale il servizio non si placano le polemiche sul progetto di via Pantini a Pescara e che trasformerà la viabilità nella zona sud della città i lavori porteranno al taglio di 58 pini decennali l'amministrazione comunale nei giorni scorsi per bocca del sindaco Masci aveva assicurato che si cercherà di salvarne il maggior numero possibile piantandone poi mille mentre le opposizioni e il Movimento 5 Stelle oltre ad alcune associazioni criticano il progetto spiegando che con un percorso alternativo non si andrebbero a toccare le piante questo tracciato passa diversamente da quello che si era pensato all'epoca della redazione della bozza del piano di sette naturalistico a cui ho contribuito sicuramente redatto nel 2008 tant'è che venimmo qui con una delegazione comunale con i dirigenti dell'epoca e individuiamo questa strada su cui siamo adesso su via Pantini allargamento di questo per ovviare all'eliminazione della strada della bonifica che passa attualmente dentro la Pineda quindi ok per questo tracciato ma non per quello che oggi viene previsto a ridosso del muretto di recensione di uno dei comparti della Pineda le piante da eliminare sono 6-7 anche a di scarso pregio quindi non assolutamente l'alberata che abbiamo oggi a disposizione e che si vede lungo questa strada dopo 10 anni che noi abbiamo redatto quel documento che fu un documento di bozza e che comunque doveva essere rivisto e come è stato rivisto da quelli che sono venuti dopo dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo questa amministrazione sì si assume nel bene e nel male la responsabilità di attuare il progetto che ci è stato prospettato che noi abbiamo scoperto essere tale io personalmente da un mese a questa parte che assolutamente non conoscevo pur avendo lavorato all'epoca e pur avendo lavorato su un'idea di strada che è diversa da quella che viene prospettata oggi mai e poi mai io mi sarei sognato di sostenere l'attraversamento della Pineta con una strada del pendolo come insomma viene definita oggi Inaugurato Costa Blu il servizio di bike sharing dei comuni di Silvi e Montesilvano il progetto voluto dalle due amministrazioni comunali allargherà l'offerta della mobilità sostenibile vediamo si chiama Costa Blu il nuovo servizio di bike sharing a stazioni fisse dei comuni di Montesilvano e Silvi nel comune della provincia Terramana saranno tre le stazioni attive la prima nei pressi del palazzetto dello sport la seconda presso la stazione ferroviaria l'ultima vicino alla foce del torrente Cerrano alle porte dell'area marina protetta quest'anno partiamo in maniera sperimentale i comuni di Silvi e Montesilvano in attesa del tratto di città Sant'Angelo che sta per essere terminato sicuramente saremo propensi ad allargare il servizio fino ad arrivare a Pescara un progetto di mobilità sostenibile importante che può unire il nostro territorio con gli altri comuni ma soprattutto farsi veramente una passeggiata lasciare la bici a Montesilvano o a Pescara potrebbe veramente diciamo soddisfare le esigenze di molti turisti questo è un progetto che potrà anche in futuro vedere l'intera costa terramana perché comunque anche con gli altri comuni della costa terramana stiamo portando avanti moltissimi progetti sull'ambiente e dunque veramente è un primo passo non solo per i cittadini ma soprattutto per i tanti turisti che sceglieranno le nostre aree adesso però c'è da mettere poi a sistema tutte queste piattaforme nel senso che bisogna collegare i comuni nel miglior modo possibile sì questo è l'obiettivo a lungo termine diciamo che però è raggiungibile perché il comune di città Sant'Angelo che ha sbrigato le pratiche degli espropri partirà presso con i lavori e quindi poi finalmente avremo il collegamento diretto tra Silvia e Montesilvano a Montesilvano invece sono sette le postazioni dislocate sull'intero territorio comunale con l'obiettivo di aumentare l'offerta riguardante la mobilità sostenibile soprattutto in vista dell'estate ci sono tanti motivi per cui rallegrarsi oggi uno di questi è che ampliamo un'offerta di mobilità sostenibile sul nostro territorio allargato come dicevi bene ai territori limitrofi sono contento che Silvia abbia risposto insomma anche all'appello lanciato dalla nostra amministrazione che è partito con questo sistema di bike sharing è appunto un sistema di mobilità sostenibile di collegamento tra i territori divertente salutare e sostenibile quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti affinché si possa essere davvero felici oggi torna a pescara dopo lo stop di un anno causa covid lo sport non va in vacanza manifestazione curata da coni e il comune di pescara che partirà il 14 giugno e proseguirà fino al 13 di agosto le iscrizioni partiranno da lunedì vediamo torna a pescara lo sport non va in vacanza dopo un anno di pausa forzata per il covid oggi assessore avete presentato questa iniziativa davvero molto bella interessante assolutamente sì sono veramente felicissima oggi di presentare la diciottesima edizione dello sport non va in vacanza dopo lo stop causato dalla pandemia dell'anno scorso un'edizione fortemente voluta dall'amministrazione comunale completamente rimardulata daremo la possibilità a 615 ragazzi residenti nella città di pescara di usufruire dei nostri impianti comunali abbiamo lo stadio Giovanni Cornacchia Rocco Febbo e Camporzanni daremo la possibilità a dei bambini di cercare di tornare a socializzare tornare a fare sport all'aperto ma in completa sicurezza seguita e guidata da istruttori capaci e competenti scelti naturalmente dal CONI speriamo di uscire da questa situazione di pandemia e questo è un'attività che riprende dopo un anno di interruzioni per i nuovi motivi purtroppo per questioni di sicurezza e di rispetto delle normative anti-covid dobbiamo ospitare purtroppo un numero ridotto rispetto all'ultima edizione del 2019 perché i gruppi devono essere distanziati non possono essere più di 15 ragazzi per gruppo e quindi tutta una serie di situazioni che non ci permettono di ospitare un numero elevatissimo di persone comunque 615 ragazzi sono sempre un numero notevolissimo questi ragazzi inizieranno l'attività il 14 di giugno e termineranno il 13 agosto quindi per 9 settimane saranno affidati a docenti di educazione fisica diplomati ISEF o laureati in scienze motorie che saranno scelti sulla base di un avviso pubblico già pubblicato sul sito del CONI farà fatta una gradatoria quindi coloro che avranno il punteggio più alto faranno parte del gruppo che si occuperà dell'attività di questi ragazzi Siamo nella pagina dello sport nel prossimo campionato il Pescara assieme al Teramo potrebbe finire nel girone B di serie C per l'ufficialità bisognerà attendere luglio in attesa di capire quale sarà la rosa di squadre che parteciperanno al campionato e se sarà modificato il criterio di compilazione dei raggruppamenti vediamo una domanda spesso ricorrente per la prossima stagione è quale girone disputerà il Pescara B o C se stiamo alla attuale strutturazione della serie C il girone B si è dimostrato altamente competitivo e con un tasso tecnico medio di tenore più alto il girone C ha evidenziato un tasso tecnico inferiore ma ci sono piazze con una tradizione calcistica notevole e imparagonabile a quella degli altri raggruppamenti Vari Palermo Avellino Foggia Catania Juve Stabia solo per citare quelle che fino a pochi anni fa erano in B se non in A bisogna premettere che la Lega Pro sta di nuovo vagliando il criterio di composizione tra le ipotesi quello attuale quello di un girone del nord e gli altri due con le direttrici Tirreno e Adriatico abbastanza simile all'ultimo campionato di C del Delfino con trasferte nel 2009-2010 che spaziarono da Porto Gruaro a Cosenza con alcune però anche in campagna e infine quello del sorteggio integrale ipotesi sulle quali dovrà pronunciarsi il direttivo della Lega Pro ed eventualmente i presidenti della Serie C se si dovesse restare con l'attuale strutturazione riconducibile ad un girone nord-ovest uno nord-est e uno meridionale per il Pescara sembra allo stato più probabile l'inserimento nel girone B assieme al Teramo la società Biancorossa da quando è stata avvalata la C Unica ha disputato 5 campionati consecutivi in questo raggruppamento per poi slittare a quello meridionale l'ipotesi del girone B è plausibile intanto per le tante retrocessioni delle Toscane che può essere compensato con l'inserimento di alcune lombarde che si trovano nel girone B e poi per le probabili promozioni dalla Serie D di società sicuramente da girone meridionale Messina Taranto e Campobasso viaggiano verso i Pro balla tra girone A e girone C il Monterosi sempre in Serie D i raggruppamenti A, B e C dovrebbero dare squadre al girone A si aspettano le ufficialità di tali verdetti così come si aspetta anche il risponso dei playoff di Lega Pro poi il quadro sarà un po' più chiaro resta inteso che la composizione definitiva arriverà non prima di metà luglio visto che l'ultimo Consiglio federale ha fissato il cronoprogramma per le iscrizioni ai campionati il 28 giugno è termine perentorio per presentare la domanda l'8 luglio ci sarà l'esito dell'istruttoria il 15 luglio un Consiglio federale per eventuali ricorsi solo allora si conoscerà la rosa definitiva delle partecipanti alla Serie C nel frattempo il presidente Daniele Sebastiani deve pensare alla stretta attualità sciogliere i nodi della direzione sportiva dell'allenatore e la gestione dei calciatori ancora sotto contratto altri due in prestito hanno scelto intanto di andare via anzitempo rinunciando all'ultima mensilità Fabio Maestro di proprietà della Lazio e Cristian Capone di proprietà dell'Atalanta intanto il Pescara è vicino a togliersi una delle poche soddisfazioni stagionali domani la primavera di Iervese giocherà il Poggio contro il Pisa e in caso di successo otterrà la vittoria del girone di primavera 2 rendendo inutile lo scontro diretto di Lecce dell'ultima giornata la società si è già mossa per chiedere un'aderoga alla Federcalcio e l'eventuale partecipazione alla primavera 1 anziché il declassamento in primavera 3 a causa della retrocessione della prima squadra Scendiamo in Serie D domani la trentesima giornata con il rinvio della gara del Castelnuovo che sarebbe stato impegnato a Recanati i neroverdi oggi effettueranno i tamponi molecolari e se non ci saranno nuovi positivi torneranno ad allenarsi martedì nelle altre gare in programma Pineto che cerca lo scatto per i playoff mentre il notaresco va a Tolentino sperando che il giulanova già salvo possa fermare la corsa del Campobasso Jacopo Forcella giornata numero 30 in serie di un campionato che in settimana ha visto la scrittura ulteriore delle regole per quanto riguarda la parte bassa della classifica il Consiglio federale della FIGC riunito lo scorso 17 maggio ha deciso infatti in via eccezionale riguardo solo la stagione 2020-2021 che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei campionati di eccellenza lo stesso Consiglio ha così accolto la richiesta avanzata dalla LND condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi campionati di eccellenza la Serie D considerate le posizioni nel girone F di Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio fanno festa a tutte le altre che raggiungono la salvezza e potranno così già dedicarsi al prossimo campionato il Giulianova ad esempio potrà affrontare con serenità la capolista a campo basso al Rubens Fadini impegno che sarebbe stato chiave ma che ora assume per i giallorossi un significato differente perché la pressione sarà tutta dalla parte molisana anche se la squadra di Cudini pare aver scavato con le rivali Notaresco in primis un solco difficilmente colmabile chiamato al blitz il Notaresco che a Tolentino cerca i tre punti cremisi anche loro fuori dalla questione salvezza e che a 33 punti possono serenamente guardare al futuro mentre il rosso-blu di Massimo Epifani non possono fare altro che fare bottino pieno in tutte le partite che mancano da qui alla fine sperando che davanti il campo basso inciampi in qualche appuntamento non c'è altra via considerati i sei punti di stacco in classifica è la gara in più che il Notaresco ha disputato rispetto ai rivali chi sta risalendo in maniera prepotente la classifica invece è il Pineto che adesso può guardare con fiducia alla possibilità di raggiungere la zona playoff la distanza è di soli due punti dalla coppia Castelfidardo-Matese che occupano la quarta piazza in coabitazione ma i biancazzori di Marco Pomante hanno due gare in meno dei rivali e soprattutto sembrano aver trovato la quadratura perfetta di squadra l'impegno interno con il Montegiorgio di domani non è affatto proibitivo e allora un orecchio sarà anche agli altri campi se il Matese è sulla carta una gara morbida con l'atletico Porto Sant'Elpidio già in eccellenza e la Castelfidardo va in trasferta a Rieti con i laziali nella classica terra di mezzo ma con qualche piccolissima speranza di provare a migliorare la propria posizione eh sì ormai siamo lì però come detto il Montegiorgio è una bella squadra è a un solo punto dietro di noi anche all'andata ci ha messo in difficoltà mi ricordo un 1-0 come un risicato alla fine avevamo quasi rischiato di pareggiarla e quindi sappiamo la partita che ci aspetta sarà una battaglia ma naturalmente faremo di tutto per riportare a casa il risultato eh sì dai io gioco dove mi dice il mister non è che decido io sono a disposizione completa del mister siamo tanti la rosa è lunga fortunatamente il mister tante scelte e ora in questo ruolo mi sto trovando meglio devo dire però insomma gioco dove dice lui l'obiettivo di squadra sicuramente è quello di fare il meglio possibile fare i più risultati possibile arrivare più in alto possibile mentre obiettivo personale sinceramente non è che in questo momento ho un preciso obiettivo personale l'obiettivo personale è quello di riuscire anch'io a fare il meglio possibile per aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile come ho detto prima infine la vastese anche i biancorossi festeggiano la permanenza e lo faranno al ditella di vasto girardi gara con poche motivazioni per entrambe le formazioni in un finale di stagione che avrà senso solo dalla metà in su della graduatoria in attesa di recuperi che dovranno porre la conclusione a una stagione quanto meno anomala recuperi peraltro ulteriormente riprogrammati mercoledì scenderanno in campo atletico Porto Sant'Elpidio atletico Fiuggi lo scontro tutto abruzzese tra Pineto e vastese Giulianovo Rimpiagnonese Riti Aprilia e vasto girardi Campobasso a breve i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it mentre il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi dell'emittente grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione